In sella alla sua moto una Beon motorizzata Honda con la quale partecipa al campionato Moto4 in Spagna non dimostra forse i suoi 13 anni, ma lui è già un campione. E Carmelo Belluzzo, classe 2009 di Favara, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del campionato ESBK nella categoria Moto4 con il team spagnolo E.T.G. Racing di Girona in Catalogna. La città di Favara con in testa il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore allo sport Angelo Airofarulla lo hanno voluto festeggiare. All'interno del Castello Chiaramonte è stata organizzata una serata in suo onore dove è stata presentata anche la stagione 2023 con il giovane campione favarese che correrà ancora in Spagna. Carmelo Belluzzo per la sua giovane età correrà nel campionato Moto4, 14 gare sugli stessi circuiti spagnoli del Mondiale della MotoGP. Direttamente dalla Spagna sono arrivati Juan Moncanut, patron del team E.T.G. Racing, Albert Torres, team manager, e Rino Salucci, manager di Carmelo Belluzzo, che è anche un osservatore piloti per conto della VR46 Academy di Valentino Rossi, a confermare le grandi potenzialità di Carmelo Belluzzo, già osservato speciale del team. Durante la serata è stato trasmesso un video realizzato da Angelo Jay, che ha raccontato la breve ma intensa storia di Carmelo Belluzzo, motociclista. È stata presentata la moto con la quale il giovane favarese correrà nel prossimo campionato di Moto4, una Beone motorizzata Honda di 30 cavalli, prodotta a Barcellona e costruita appositamente per le caratteristiche di Carmelo, che è seguito nella preparazione fisica dal suo personal trainer Ignazio Maglio. Emozionati ma felici papà Leandro e mamma di Letta, il sindaco Palumbo e l'assessore Aerofarulla hanno consegnato a Carmelo Belluzzo una targa ricordo a nome di tutta la città di Favara, che gli ha augurato ogni fortuna per il prossimo campionato.